Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In FIPILI si segnalano lavori tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est in direzione Livorno. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla strada regionale 69 di Valdarno restringimento di carreggiata e all'occorrenza senso unico alternato tra i chilometri 25,370 e 25,400 nel comune di Figline incisa Valdarno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!